Salve, sono Uomo Dalliano. Sì, lo so chi sei. Io sono il dottor Mancino, siediti. Sai dirmi che giorno è oggi? Oggi è sabato, 8 agosto. Sbagliata, domenica 9. È normale che non te lo ricordi, hai dormito per più di 24 ore. Eri così alterato che la collega che ti ha preso in consegna ti ha dovuto dare una doppia dose di sedativi. Vabbè, ma io perché sto qua? Eh non lo so, dimmelo tu perché stai qua. Non so se avevano io, chiedevano. Te lo ricordo io allora. Qual è l'ultima cosa che hai fatto l'altra sera? Non lo so, sono tornato a casa. E poi? Poi sono crollato. Ma non ti ricordi, non importa. Ti verrà in mente. Che sa scriverla? Certo che ne fai di domande per essere uno che si è appena svegliato, eh? Chiudere con te?